Special guest della presentazione Intel dedicata agli Ultrabook al Cebit 2012 è stato un reference design di Ultrabook Touchscreen che vediamo in queste immagini utilizzato da Canon Regis di Intel. Il processore è un Intel Ivy Bridge di ultima generazione, mentre il sistema operativo è ancora Windows 7, anche se possiamo prevedere facilmente che ci sarà un boom dei dispositivi touch enabled con l'arrivo di Windows 8. Il design è sottile come ci si aspetterebbe da un Ultrabook con una base bianca e la cornice dello schermo silver, così come è argentata la cerniera rotonda attorno alla quale ruota il display lead, al centro del quale spicca il logo Ultrabook cromato. Il design tagliente si appiattisce in corrispondenza dei lati per ospitare le interfacce. Troviamo un jack audio combo, una USB 3.0, lettore di schede di memoria e sim card sul lato destro, un'altra USB 3.0 e la predisposizione per la porta RJ45 ripiegabile sul lato sinistro. Qui vediamo una demo di Zinio Reader, un lettore di magazine che ci permette di sfogliare le nostre riviste preferite ed effettuare il pinch to zoom utilizzando le capacità dello schermo multitouch capacitivo a 10 punti di contatto di questo portatile che quindi in generale consentirà un'esperienza utente più dinamica.